Non combatteremo contro di voi! Esatto, anche se abbiamo in mente una fortezza grandiosa! Avanguardia! Avanzare! Oh oh, prenderemo una batosta! Noi prenderemo una batosta, auguri! Aprire il fuoco! Nanna! Mancati! Mancati! Guarda che mi ha fatto! Ci ha strapazzati! Se volete la guerra, è quello che avrete! Sei impazzita? La battaglia inizierà domani alle nove in punto! Sì! Porta la trombetta a giocattolo, non dimenticarla! È una tromba! E non è un giocattolo! Adesso sarai contenta! Sei pronto a costruire la tua super mega fortezza? Mai stato più pronto di così!